Dalla tarda mattinata è ufficiale, Andrea Amato è un nuovo giocatore della Giorgio Tessi Group. A comunicarlo è stata alla società di Viafermi, specificando che il giovane playmaker arriva a Pistoia dalla palacanestro Olimpia Milano, con la formula del prestito fino al termine della stagione. Nato nel capoluogo Lombardo 22 anni fa, più volte nella nazionale sperimentale, Amato è un play di 1,90 m, cresciuto nel vivaio dell'Armani, con la quale ha ottenuto il titolo di miglior realizzatore delle finali nazionali Under-19 nel 2013. Terminato il percorso nelle varie categorie giovanili nell'estate dello stesso anno è passato in prestito a Casal Monferrato, in Lega 2, chiudendo la stagione con 4 punti di media a partita in 14 minuti di utilizzo. Nella stagione 2014-2015 è stato nuovamente affidato a Casale, dove, al suo secondo campionato con i piemontesi, a testimonianza di un'evidente crescita, è riuscito a mettere a referto quasi 9 punti e 1,7 assist in oltre 20 minuti di media a partita. Nella scorsa estate è rientrato all'Olimpio, dove ha esordito in Serie A la seconda giornata di campionato, in occasione della vittoriosa gara interna contro Varese, nella quale ha giocato 6 minuti, trovando anche i primi punti in questo inizio di carriera da professionista. Il giocatore per il quale la società bianco-rossa ha il diritto di opzione anche per la prossima stagione, sarà a disposizione di coach Vincenzo Esposito già dalle prossime ore. Mercoledì era in Turchia con la squadra di coach Repecia per una gara di Euro Cup, ovviamente pronto per la trasferta di lunedì a Cantù.